Fino a pochi minuti prima erano stati in pizzeria a ridere e a scherzare, ogni giorno insieme nella loro breve vita come tutti i gemelli. Finita la festa sono montati sullo scooter e si sono avviati verso casa intorno a mezzanotte. Dopo poche centinaia di metri i fari di un'auto sbucata all'improvviso e lo schianto. Antonello e Giovanni Padulo, 16 anni, sono stati scaraventati via dallo scooter. Il giovane di 22 anni di Darino alla guida della Grande Punto si è fermato davanti a lui i corpi dei due ragazzi. Uno scontro terribile che non ha lasciato scampo ad Antonello e Giovanni, morti per le gravissime lesioni riportate. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarli ma non c'è stato nulla da fare. Lo scooter distrutto per la violenza dell'impatto, la sella e gli altri pezzi sparsi ovunque sull'asfalto. Sotto sciocchi il giovane che si trovava a bordo della Punto, trasportato in ospedale per accertamenti. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Una tragedia nella tragedia. A piangere Antonello e Giovanni c'è Giuseppe, un terzo fratello gemello. I carabinieri della compagnia di Larino, coordinati dal Maggiore Alessandro Dominici, hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dello scontro. Tra le ipotesi si valuta un tentativo di sorpasso da parte dell'auto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Santa Croce e di Magliano. I corpi dei due ragazzi sono stati trasferiti in obitorio. Il magistrato non ha disposto l'autopsia. Il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo, ha deciso di proclamare il lutto cittadino.